Aspetto sia l'architetto napolitano, dirigente del settore di pianificazione. Io, prima di dare la parola a Napolitano, volevo dire due cose che mi hanno colpito della relazione dell'architetto formato. Si è parlato ovviamente di spazi pubblici immateriali. Ovviamente noi siamo qui stasera per parlare di spazi pubblici materiali, di cose concrete che vorremmo vedere realizzate nel più breve tempo possibile. E allora passo la parola a Napolitano dicendo questo. L'architetto formato diceva fare cose realmente. Questa sera noi lanciamo quest'idea. Ammesso che quest'idea possa suscitare interesse nelle parti politiche e nella cittadinanza, quali sono e quante sono le possibilità, le probabilità e soprattutto i tempi affinché quest'idea possa essere realizzata. Prego, salvo a tutti. Salve a tutti. Salve a tutti. Già l'immagine che noi abbiamo utilizzato sia per l'invito che per il piccolo manifesto, il piccolo brochure che abbiamo disegnato, abbiamo utilizzato una foto di un'infrastruttura che esiste a Parigi, in pratica di un sottopasso, però attrezzato al giardino. Quindi ci sembrava l'esempio più coerente ed esemplificativo rispetto alle tematiche che ci sono a Casopio. L'idea di questo progetto è nata da una sollecitazione che è venuta dall'assessore Tignola di riutilizzare lo spazio che si trova all'ingresso di Casoria arrivandoci da via Padula. In pratica lo spazio che è davanti alla shopping house. Abbiamo cominciato a cercare di capire quello spazio di chi era la proprietà e abbiamo scoperto che è di proprietà pubblica insieme a tutta un'altra serie di spazi. In pratica tutte le aree a raso contigue alla scombollazione esterna con una delibera approvata nel 2001 di delimitazione del centro abitato tutte queste aree sono diventate di competenza e di proprietà comunale. Quindi tutte le aree che sono contigue alla scombollazione esterna possono essere utilizzate dal comune per un utilizzo pubblico. Naturalmente ci sembrava riduttivo occuparci solo dell'area che si trova all'ingresso di via Padula. Ci sembrava più interessante riconnettere quest'area sia alle aree contigue della scombollazione esterna e cercare di capire che cosa si incontrava lungo la scombollazione esterna. La scombollazione esterna tra l'altro la conoscete tutti è la prima strada che collega in modo radiale in modo in pratica parallelo a Napoli rispetto a tutti gli assi storici che collegavano Napoli con l'entroterra campana. Facendo degli approfondimenti sulla circombollazione esterna abbiamo scoperto che è stato oggetto di studi anche di altri studiosi ad esempio abbiamo trovato un dottorato di ricerca fatto in Svizzera da uno studioso, Andrea Sassokomowski nel 2004 che ha analizzato le funzioni che sono sorte lungo la circombollazione esterna da Casoria fino all'agropatria. Questi sono i laborati di questo studio su Svizzero che ha analizzato i centri urbani le identità che si sono sviluppate lungo la circombollazione esterna la circombollazione esterna in qualche modo collega tutta una serie di comuni la prima corona a nord di Napoli che in qualche modo adesso tutti compongono una sorta di periferia territoriale cioè la circombollazione esterna nasce come un'asse di traffico veloce quindi di collegamento veloce con poco interesse all'identità dei luoghi che incontra questo tra l'altro la circombollazione esterna ha la maggior parte delle infrastrutture di tipo sovracomunale che hanno pochissima attenzione ai luoghi urbani che incontrano nel caso della circombollazione esterna tra l'altro invece consuma tutta una serie di energie locali elimina le identità urbane ha aumentato la rendita urbana in qualche modo è stato uno dei fattori moltiplicatori della crescita dei comuni attraversati negli anni 70 negli anni 80 fino ancora agli anni 80 questi sono alcuni pezzi di casoria limitano via la circombollazione esterna o comunque in pratica la possibilità che attraverso la circombollazione esterna casoria come gli altri comuni attraversati era più facilmente collegabile al capoluogo napoletano ne ha aumentato il valore fondiario delle aree per la loro capacità edificatoria negli anni quindi aumentando a dismisura le aspettative edificatorie che poi nei fatti si sono realizzate nel riflettere sul riutilizzare queste aree residuali marginali come l'area che c'era stata proposta dall'assessore di Nola abbiamo cercato di censire almeno a livello planimetrico le aree residuali che ci sono sul territorio comunale da questa planimetria si vede abbastanza bene che ad esempio le aree residuali si addensano lungo le grandi infrastrutture l'autostrada la tangenziale la circombollazione esterna l'asse di supporto adesso lo vediamo ancora meglio nei particolari quindi ci sono tutta una serie di aree di vuoti non connessi tra di loro come diceva prima Enrico invece noi cominciando ad analizzare l'area che è la prima che vedete verde all'ingresso di via Padula abbiamo pensato di connetterla con una grande area di proprietà militare che c'è poco più avanti attraverso la riqualificazione delle fasce che si trovano sui bordi della circombollazione esterna tra l'altro delle fasce che in alcuni punti hanno una buona profondità hanno una profondità di circa 7-8 metri per cui possono essere utilizzate come percorsi pedonali e possono essere utilizzate anche per essere piantumati poi continuando a percorrere la circombollazione abbiamo individuato un'altra area libera che è all'incrocio tra via Fermi e via Porta mi pare e ci sembrava anche essa utile da riconnettere a tutto il sistema e quindi abbiamo pensato di che la nostra proposta progettuale non si limitasse alla sola primaria ma tenesse assieme tutto il sistema abbiamo cercato pure delle connessioni con il centro che in qualche modo possono essere perseguite perché via Michelangelo o via Padula attraverso la loro riqualificazione potrebbero riconnettere questi spazi laddove realizzati con la parte centrale storica di Casoria sono foto dello stato di fatto delle fasce contigue alla circombollazione esterna le ultime due foto sono quest'area di via Fermi poi abbiamo fatto una serie di analisi urbanistiche prima di arrivare alla configurazione progettuale per queste aree abbiamo cercato di capire che cosa accadeva intorno alle zone che erano di nostro interesse e in questa planimetria facciamo in pratica ci sembrava opportuno far vedere più o meno la posizione baricetrica che acquistava questo piccolo sistema sia rispetto a Casoria Centro sia rispetto al centro di Arpino qui già facciamo vedere un po' di schemi di come abbiamo pensato di riutilizzare queste aree entrambi i progetti tutti i progetti sono progetti che cercano di utilizzare il il minore dispendio possibile di risorse cioè che siano sostenibili non solo sotto l'aspetto economico sia quello gestionale che siano effettivamente realizzabili con un dispendio di energie abbastanza limitato naturalmente questo tipo di approccio non è un approccio soltanto nostro nel mondo analisi di questo tipo e sperimentazioni di questo tipo si stanno realizzando con ottimi risultati come la riqualificazione di alcune infrastrutture ferroviarie l'highline che diceva prima Enrico oppure questa foto della Francia è la riqualificazione di alcuni depositi disommercibili sulla manica volendole utilizzare come spazi a verde come giardini abbiamo cercato di attuare una modalità che fosse molto sostenibile soprattutto tutto l'aspetto di ridurre i costi di gestione di ridurre le risorse finanziarie da impiegare nella gestione ordinaria di un giardino pubblico e l'abbiamo fatto utilizzando soprattutto delle essenze arbore particolari molto opportune rispetto ai vari casi che servissero soprattutto per far riconnessere ricomporre anche il rapporto tra le persone e la natura la città di Casoria così come tutti i luoghi densamente abitati non è secondario ad esempio strutturare un giardino dove si possono vedere degli uccelli o si possono vedere delle traspalle o si possono vedere delle bacche che poi sono il nutrimento di uccelli per fare in modo che magari i bambini possano vedere che la natura si comporta in un determinato modo in luoghi così densamente edificati questo acquista secondo noi un particolare significato un'altra ipotesi che abbiamo fatta è quella che con dei leggeri disegni del terreno per tutti i progetti che poi dopo i collaboratori Emilia e Francesco vi illustreranno con dei leggeri modifiche dei livelli del terreno si possono ottenere dei buoni risultati per quanto riguarda la manutenzione e cioè in questo caso creando degli avvallamenti si creeranno delle zone più secche e delle zone più umide dove andare a collocare delle essenze arboree che hanno bisogno di meno irrigazioni nelle parti più secche e di maggiore irrigazione nelle parti più umide ovviamente tutto questo può essere creato all'inverso questo determina la possibilità di mettere a dimora essenze arboree di grande diversità tra di loro e nello stesso tempo di ridurre di molto sia l'irrigazione sia la manutenzione naturalmente un giardino con questo tipo di caratteristiche ha una immagine molto diversa rispetto al giardino tradizionale in pratica il più piccolo l'ultimo l'abbiamo chiamato il giardino delle erbe perenni proprio perché vengono utilizzate quasi esclusivamente delle erbe perenni perché questa è più o meno l'immagine che è molto diversa dal giardino classico italiano in cui ci sono delle votature c'è l'arte topiaria c'è una fortissima esigenza sia di irrigazione che di manutenzione